Un suggestivo corteo storico rievocativo verso il santuario Santa Maria delle Vertighe, con la traslazione della Madonna su un carro agricolo trainato dai giganti bianchi della Val di Chiana. Stiamo rievocando l'evento della traslazione della Cappella della Madonna da Asciano qui sul Colle delle Vertighe. Tutti gli anni ci ritroviamo qui, tutti insieme, e attraverso questa processione ci recheremo con la Statua della Madonna in chiesa. Ci sarà la Messa Solenne, dove ringrazieremo il Signore di questo grande evento, dove da questo luogo, da questo santuario, il Signore continua a allargire grazie a tutti i fedeli che si recano qui. Si tratta del più antico Santuario Mariano della Diocese di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Una volta arrivati al santuario, la rievocazione è proseguita con la rappresentazione degli sbandieratori di Sansepolcro. È stato poi il turno dell'araldo che ha ripercorso il racconto della traslazione mariana secondo le scritture.